pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati questa domenica celebriamo la solennità dell'ascensione al cielo di gesù ed è una splendida occasione per riflettere anche sulla nostra meta il cielo e la via per giungervi gesù dopo essere morto e risorto per 40 giorni si è manifestato vivo ai suoi discepoli dopodiché torna al padre con la sua umanità glorificata da lì intercede per noi inviandoci lo spirito santo ci dà la speranza di raggiungerlo un giorno avendoci preparato un posto gesù così ci rivela la meta del suo cammino il padre la vita di gesù è un viaggio viene dal padre compie la sua missione vivendo sempre unito al padre vi ritorna dopo la morte questo ci ricorda che anche la nostra vita è un viaggio anche noi siamo chiamati in questa vita a conoscere l'amore del padre ad affidarci a lui e ad incontrarlo immergendoci in lui dopo sorella morte siamo dei pellegrini in cammino verso casa in cammino verso il cielo e che cosa è il cielo l'eterna comunione con dio l'essere partecipi della sua vita della sua divinità l'essere immersi nella sua beatitudine san paolo dice cose che occhio mai vide ne orecchio mai udine mai entrarono in cuore d'uomo queste dio ha preparato per coloro che lo amano i santi chiamavano il cielo la festa che non finisce ma pensate che bello ritrovarci in dio conoscerci e riconoscerci in lui sì infatti saremo noi il nostro io profondo la nostra anima e partecipi della sua divinità ci riconosceremo riconosceremo chi siamo stati gli uni per gli altri sulla terra riconosceremo i meriti degli altri il bene che gli altri hanno compiuto e i benefici che ha portato alla nostra vita anche persone che non conoscevamo e magari offrendo i loro sacrifici le loro sofferenze hanno giovato anche a noi tentazioni superate difficoltà attraversate grazie anche all'offerta di tanti alla preghiera di tanti miei cari se già ora in questa vita viviamo degli assaggi meravigliosi di cielo in comunione con dio quando compiamo il bene pensando vorrei non finisse mai quanto più bello sarà nell'eternità immersi in lui ritrovandoci insieme nella gioia con tutti gli angeli e i santi la nostra meta è il cielo perché ci fa bene ricordarlo per riossigenare il nostro cuore certo ma non solo ricordarlo ci aiuta a ricentrare il nostro cammino noi siamo pellegrini il dramma serio diceva un padre della chiesa e quando da pellegrini finiamo a fare i turisti lasciandoci attrarre dai bei paesaggi dimenticando dove eravamo diretti in genere quando si parte per un viaggio si organizza il viaggio in base a quella meta ad esempio se dovessimo andare al mare alle bahamas non ci porteremo dietro il cappotto e quando dobbiamo raggiungere un luogo cerchiamo di prendere il tragitto più breve e di essere attenti a non sbagliare strada ecco qualcosa di analogo accade nella vita spirituale già ora siamo chiamati a conoscere il padre ad affidarci a lui a vivere uniti a lui in cristo in forza dello spirito santo ed essere pronti all'incontro con lui siamo dei pellegrini abbiamo una meta e dunque importante imparare a discernere in base alla nostra meta imparare cioè a distinguere ciò che è secondo il cielo da ciò che non lo è ad esempio iniziare a chiederci ma questa scelta mi avvicina o mi allontana dalla meta questa cosa è secondo il cielo quando comparirò davanti a dio di questa cosa me ne vanterò o me ne vergognerò questa situazione per la quale me la prendo tanto ma ne vale davvero la pena lewis nel meraviglioso testo delle lettere di berlicche scrive che l'opera del tentatore è farci pensare all'immediato e non all'eternità farci pensare e assolutizzare solo le cose della terra immediate piccole fugaci ma non farci pensare al nostro vero fine ed ecco che spesso ci attacchiamo possessivamente alle cose agli affetti assolutizziamo e andiamo in cerca di onori riconoscimenti carriere chissà che cosa dimenticando dove siamo diretti san filippo neri amava ripetere preferisco il paradiso agli onori alle cariche a tutto ciò che poteva essere ambizioso agli occhi degli uomini lui preferiva il cielo dunque miei cari imparare a orientare la vita verso la meta per non correre il rischio di girare a vuoto o peggio ancora di fallirla ora i discepoli contemplano gesù salire al cielo mentre lì benediceva benedire in ebraico significa volere la vita e solo la vita quest'atto sacerdotale in fondo anche paterno che il padre compiva nel momento della morte quando benediceva i figli lasciando loro i suoi beni perché portassero avanti la loro missione ecco i discepoli contemplano gesù salire al cielo e poi e poi dovranno attendere lo spirito santo per poi partire per la loro missione il signore sale al padre e manda lo spirito santo perché ognuno di noi con la potenza d'amore di dio nel cuore sia protagonista della sua vita ci consegna una missione ognuno di noi ha una missione ed è una missione come chiesa siamo chiamati a testimoniare quest'amore grande ad annunciare il signore risorto e ciascuno di noi nel suo piccolo è chiamato a seminare amore nella sua vita la vita viene una volta nell'eternità e saremo per sempre quanto avremo amato qui né più e ne meno dunque chiediamogli la grazia di vivere in pienezza il nostro qui ed ora ad esempio sei sposato ama donati fino in fondo dai la vita per la persona che hai accanto aprendoti con essa generosamente alla vita sei genitore prenditi cura dei tuoi figli dedicargli tempo forza attenzioni sei presbitero religioso religiosa cerca con tutto il cuore il signore spenditi con amore per le anime che ti sono affidate specie per gli ultimi per i poveri nel lavoro che compi mettici il cuore sapendo che contribuisce a rendere il mondo più bello col tuo servizio l'ascensione e la glorificazione di gesù ci dice l'esito felice di chi si è fidato del padre vivendo per amore in lui la vita non è tolta ma trasformata in lui ogni atto d'amore non è perduto ma ritrovato siamo chiamati a camminare verso il cielo a vivere atti validi per il cielo vivere con lo stile di vita di chi sta andando verso il cielo una volta una persona incontrò san giovanni bosco che camminava e gli chiese don giovanni dove va e lui rispose vado in paradiso e mi piace concludere lasciandovi la testimonianza di chiara corbella questa donna meravigliosa morta soli 28 anni che ci testimonia la potenza la bellezza di questo camminare verso il cielo chiara ha fatto un cammino di fede con l'allora fidanzato e poi marito enrico abbracciando la strada del matrimonio durante la prima gravidanza le viene diagnosticata una encefalia alla figlia maria i due giovani sposi decidono di dare alla luce la figlia che nasce viene battezzata e muore tra le braccia dei genitori chiara affidandosi a dio dice non è importante la durata non capisco ma deve essere così e il papà enrico scrive ricordo di maria la vita è meravigliosa per questo ti abbiamo cercata non importa quanto tempo passeremo insieme a noi importa quel che sarai qui ogni cosa non conta veramente il necessario è conoscere il padre e prepararsi a questo incontro e tu sei nata pronta e non so dirti quanto siamo orgogliosi di te anche durante la seconda gravidanza al bambino che porta in grembo davide sono diagnosticate grave malformazioni ancora una volta fidandosi di dio amanti della vita chiara ed enrico lo danno la luce lo fanno battezzare e tra le braccia lo accompagnano al cielo alla terza gravidanza tutto procede bene per il figlio francesco ma la diagnosi in fausta questa volta tocca lei chiara dopo un primo intervento chirurgico rimanda chemio e radioterapia solo dopo il parto ma ormai sarà troppo tardi chiara a metastasi ovunque e la lettera meravigliosa che ha lasciato al figlio francesco è una splendida sintesi di tutta la sua vita carissimo franci oggi compie un anno e ci chiedevamo cosa poterti regalare che potesse durarti negli anni e così abbiamo deciso di scriverti una lettera si è stato un dono grande nella nostra vita perché ci hai aiutato a guardare oltre i nostri limiti umani quando i medici volevano metterci paura la tua vita così fragile ci dava la forza di andare avanti per quel poco che ho capito in questi anni posso solo dirti che l'amore è il centro della nostra vita perché nasciamo da un atto d'amore viviamo per amare e per essere amati e moriamo per conoscere l'amore vero di dio lo scopo della nostra vita è amare ed essere sempre pronti ad imparare ad amare gli altri come solo dio può insegnarti l'amore ti consuma ma è bello morire consumati proprio come una candela che si spegne solo quando ha raggiunto il suo scopo qualsiasi cosa farai avrà senso solo se la vedrai in funzione della vita eterna se starai amando veramente te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente perché tutto è un dono dio non toglie mai nulla se toglie e solo perché vuole donarti tanto di più grazie a maria davide noi ci siamo innamorati di più della vita eterna e abbiamo smesso di avere paura della morte dunque dio ci ha tolto ma per donarci un cuore più grande aperto da accogliere l'eternità già in questa vita tu ti chiami francesco perché san francesco ci ha cambiato la vita e speriamo possa essere un esempio anche per te è bello avere degli esempi di vita che ti ricordano che si può pretendere il massimo della felicità già qui su questa terra con dio come guida sappiamo che sei speciale e hai una missione grande il signore ti ha voluto da sempre e ti mostrerà la strada da seguire se gli aprirai il cuore fidati ne vale la pena che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti